Sono Ornella Fabris e faccio parte dell'associazione para un principe enano di Olga Lidia Apriel. Pochissimi secondi per esprimere il mio pensiero, il mio parere sulla manifestazione di domenica 15 novembre a Cuba. I contro-rivoluzionari, i mercenari, los gusanos ciberneticos, promotori di questa campagna anti-Cuba, che tornano a combattere nella loro terra, se credono in un miglioramento. Cuba non è un archipiélago, Cuba è un continente. Chi la defiende la vuole più. Hasta la victoria sempre. Cuba, Cuba, te canto, te quiero, te tengo e te siento, Cuba.